Oggi è stata una giornata produttiva. La Regione Abruzzo, nell'ambito della fase ascendente dell'Unione Europea, deve presentare suggerimenti, delle modifiche ai regolamenti attuali e a quelli che saranno i prossimi regolamenti dell'Unione Europea per ciò che riguarda gli aiuti di Stato. In particolare oggi abbiamo sentito il mondo agricolo, il mondo della pesca ed il mondo dell'allevamento e sono venuti fuori tutta una serie di argomenti estremamente interessanti che la Regione Abruzzo farà proprio e li porterà in discussione a livello dell'Unione Europea. Si è parlato ad esempio del discorso dei danni da fauna selvatica che noi puntiamo a far sì che vengono riconosciuti dall'UE sia per le aziende che sono all'interno delle aree protette e anche alle aziende che sono fuori dalle aree protette. Si è parlato degli aiuti de minimis, si è parlato degli aiuti che altri enti minori tipo i comuni vogliono e possono dare alle associazioni di categoria, agli allevatori senza incorrere nelle sanzioni degli aiuti di Stato. È stata davvero un'interessantissima commissione, ci rincontreremo molto a breve perché entro il 13 marzo la Regione Abruzzo dovrà portare in Unione Europea una risoluzione chiedendo che queste richieste del nostro mondo agricolo, del nostro mondo della pesca e dell'allevamento vengano prese in considerazione nella realizzazione delle leggi e delle normative europee.